James ha contato il numero di alligatori in vari corpi d'acqua e ha rappresentato il risultato su un grafico. Quanti alligatori in meno ci sono a Biteswamp rispetto a Chomp Lake e Reptile Creek messi insieme? Qui sotto abbiamo il grafico a barre creato da James, che evidentemente è sopravvissuto agli alligatori. Forse era protetto da una recensione, chi lo sa. Allora, ci chiedono, quanti alligatori in meno ci sono a Biteswamp rispetto a quelli di Chomp Lake e a quelli di Reptile Creek contati insieme? Per prima cosa, dobbiamo scoprire quanti alligatori ci sono a Chomp Lake e a Reptile Creek in totale. Poi, dobbiamo scoprire quanti alligatori in meno ci sono a Biteswamp. Guardiamo il grafico. Ecco Chomp Lake. La barra arriva fino a 6, perciò ci sono 6 alligatori a Chomp Lake, più quelli di Reptile Creek. Ecco Reptile Creek. La barra arriva fino a 9, perciò ci sono 9 alligatori a Reptile Creek. 6 più 9, beh, 9 più 1 fa 10. Scomponiamo il 6 in 5 più 1. 9 più 1 è 10, più 5 fa 15. Perciò ci sono 15 alligatori in totale se contiamo quelli di Chomp Lake e Reptile Creek insieme. Ora possiamo scoprire quanti alligatori in meno ci sono a Biteswamp rispetto a questi 15. Ecco qui Biteswamp. La barra arriva fino a 12. Perciò ci sono 12 alligatori a Biteswamp. Questi 12, quanti sono in meno rispetto ai 15 di Chomp Lake e Reptile Creek? 12, quanto di meno è rispetto a 15? Se abbiamo 15 e togliamo 12, ci resta 3. Dunque ci sono 3 alligatori in meno a Biteswamp rispetto a quelli di Chomp Lake e Reptile Creek contati insieme. fuori montati insieme. Grazie a tutti.